ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video non è un video dell'arte ma come avete capito dal titolo è un video dove vi farò vedere che si può utilizzare anche smalti normali e farli durare quelle due settimane di solito come durano semi permanente diciamo poi dipende una sempre quanta ricrescita già e niente insomma gli smalti normali a farli diventare tra virgolette insomma semi permanente allora io questa tecnica su de me non l'ho mai provata e quindi non vi so dire se veramente può funzionare o meno se dura lo smalto così normale o meno non lo so e però comunque volevo fare lo stesso questo video per farvi conoscere questa tecnica io userò una tip purtroppo non lo userò su de me perché adesso le unghie corte e adesso sto facendo una specie del trattamento dato che mi sono fatta tante ricostruzioni questo preso questo prodotto va beh in farmacia che non fa asfaldalunghia te la indurisce e non te la spezza e speriamo che fa come prodotto anche perché non è che costa l'euro manco tanto però insomma speriamo che funziona e quindi non lo faccio su de me dopo mano mano che mi crescerà le unghie sempre se dio voglia e come voglio io proverò sicuramente questa tecnica perché mi incuriosisce e la voglio fare e quindi andremo utilizzare semplicemente uno smalto normalissimo però che invece durare che sai quei tre quattro giorni cinque giorni dipende dopo che tipo di smalto uno usa che c'è tante cose che durano di più altri di meno che dopo che si comincia a spellare a sbeccare eccetera questo invece note dura due settimane allora intanto andiamo a vedere lo corrente che servono un vabbè io adesso ho preso una tipa dove serve le mani vostre insomma ok poi vi servirà allora ho una lima adesso lasciate stare la tipa fate finta che questa qui l'unghia mia insomma ecco quindi ho usate la lima io c'ho queste 180 240 che tipo buffer assomia diciamo e limate la vostra unghia se volete usare la lima per limare l'unghia per fare la preparazione dell'unghia prima dei semi permanente o se no usate direttamente un buffer ovviamente la spazzolina per levare poi l'eccesso di polvere io adesso qui non vado a mettere non vado a sgrassare l'unghia la lascio direttamente così normale e e poi vi servirà uno smalto questo qui vedete questo è pare rosso ma è un porpora intendente sul rosso comunque sì questa è della sienne vedete uno smalto normalissimo non è nei semi permanente non è già niente uno smalto normale quelli che va via col solvente insomma con l'acetone e poi vi servirà una base una base un sigillante insomma no base scusatemi perché questo qui a base diamo 2 in 1 che farsi da base che da sigillante questa è della picchi nails voi dovete procurarvi un sigillante semi permanente ovviamente lucido quello che è insomma quello che sigilla insomma il tutto e niente quindi adesso cosa andrò a fare e adesso andrò ad applicare questo bellissimo smalto solo unghia dovete aspettare che si asciuga perfettamente bene ovviamente non il lampada perché uno smalto normale ma all'area si asciuga quindi date una passata aspettate tantissimo insomma quello che ci vuole dipende da che tipi di smalto avete se quelli che sugare di più in fretta subito quelli di meno comunque aspettate la prima passata che ci asciuga bene se coprente ok posto così sono ripassate la seconda passata a me come sapete mi piace coprente quindi darò da passate quindi la prima cosa da fare ovviamente a rimare l'unghia oppure usate buffer vedete voi con la spazzolino levate la polvere poi andate applicare lo smalto il primo stato ovviamente più sottile e poi secondo proprio abbondante quindi adesso vado ad applicare lo smalto sull'unghia e fate caso fate finta che questa lunga mia comunque ovviamente date una prima passata aspettate che si asciuga benissimo che si asciuga bene 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 e poi dopo date la seconda passata qui me sa che mi tocca dai e tre passate perché tanto trasparentino comunque ok adesso aspetto che si asciuga darò la seconda passata non lo riprendo perché comunque la seconda passata e poi vediamo per il la prova successiva insomma diciamo quindi ci vediamo più tardi eccomi qua allora questa qui è la seconda passata adesso noi andiamo a prendere il nostro sigillante e lo andiamo ad applicare su tutta l'unghia poi andiamo a catalizzare lampada dopo voi dipende che tipo di sigillante avete se va catalizzato per 30 secondi 60 secondi il mio 60 secondi questo e lo andiamo ad applicare su tutta l'unghia ecco qua allora clicchiamolo bene ecco qui dopo averlo applicato andiamo a metterlo in lampada ecco qua adesso è uscito fuori della lampada adesso lo andiamo a sgrassare ecco qua e questo qui è il risultato dopo voi se volete applicare un lucido un top coat insomma finale proprio lucido per rendere l'unghia più lucida insomma lo applicate e adesso non sto applica perché comunque era una prova farvi vedere e quindi niente l'unica roba da vedere per vedere se veramente fa che dura quelle due settimanelle o meno e se veramente è così e sarebbe bello perché comunque tipo io che ho 300 col code smalti li posso utilizzare per esempio non so io ho uno smalto non so bello che mi piace tanto che voglio che mi dura di più posso utilizzarlo in questo modo e magari meno uno può utilizzare anche i smalti normali farli diventare insomma semi permanente in questo modo qua adesso quindi con questa non è che vi posso dire quanto dura o meno perché tanto queste qui rimane così non è che viene adoperata insomma non è nelle maniche cucinate lavate pulite eccetera quindi non non si può vedere veramente quanto dura questo rimane qui così e basta però l'unica cosa mi raccomando ragazzi dato che lo smalto normale questo deve veramente asciugare perfettamente deve essere perfettamente asciutto lo smalto perché sono ovviamente quando vedete a parte il topo cotto lucido quello che ovviamente già va via lo smalto oppure quando dovete sgrassare invece appena sgrassato vedete rimasto qui perché l'ho fatto asciugare benissimo anche se ci ho messo 30 anni per farlo asciugare questo qui della sien poi ci vuole un po di più vabbè e casomai se voi lo volete provarlo casomai mi potete fare sapere se lo volete provare a fare questa prova in caso se l'avete provato poi lo farete sapere sotto questi commenti quanto vi è durato e tutto a me mi dispiace che non posso provare se le mie unghie se no lo facevo e poi vi dicevo più là se mi durava o meno però dopo che ho scoperto questa tecnica è una figata e sperando che veramente questo qui funziona e lo posso scoprire solo quando è come cresceranno le unghie mie e così poi lo proverò sicuramente perché è una cosa fighissima anche perché così almeno uno non va a spendere manco i soldi pessimi permanente lo smalto normale e quindi ok vabbè dai parti scherzi però dai così insomma niente io spero comunque che questo video vi sia stato anche utile e se se vi è interessato come video quindi spoliciate in sul video se vi è piaciuto sotto i commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa tecnica fatemi sapere se la volete provare in caso quando l'avrete provata mentre in caso mai sotto a questo video nei commenti mi direte cosa cosa ne pensate e se vi è durato meno insomma un pochino meno due settimanelle e niente con questo vi saluto vi mando un grandissimo bacio e ci diamo presto al prossimo video ciao